oggi siamo qui mare spianato fuori un po batte c'è una bella riga verde qui abbiamo il collega carico come la jena cosa si prende collega bisogna prendere un pescione almeno io lo devo prendere perché poi siamo a cena insieme sicché bisogna trovare scena via bisogna procacciarsi la cena vento di grecale è bello sostenuto niente via ci procaccieremo la cena speriamo via a dopo da me e dal collega che oggi piglia il pescione grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.